Pensiero del giorno. Posso chiedere tutto l'aiuto che voglio. I miei angeli sono felici di assistermi sempre, perché questo è un universo illimitato con abbondanza infinita per me e per tutti gli altri. Sono disponibile a ricevere i doni e il sostegno che il cielo mi offre. Sappi che ciò che chiedi non è mai troppo. Noi angeli sappiamo che a volte hai paura di chiedere troppo. Ti domandi se non si è sbagliato o da egoisti chiedere aiuto riguardo alla ricchezza materiale, alla guarigione o alle cosiddette piccole cose della vita. Oggi vorremmo affrontare le paure che ti fanno esitare a chiedere e ad accettare la nostra assistenza. Questo è un universo di abbondanza che contiene infinite possibilità e il potenziale per ogni esperienza. Non c'è carenza di scorte, quindi ciò che ricevi non potrebbe mai togliere qualcosa ad altre persone o impedire loro di godersi l'abbondanza. Siamo esseri illimitati, proprio come te. Abbiamo tutto il tempo dell'universo per aiutarti, quindi non preoccuparti di infastidirci con le tue richieste o preghiere. Il nostro scopo è sostenerti.